25 anni di ance giovani celebrati con un evento all'editorium. Il comitato giovani rappresenta una componente molto importante all'interno dell'Associazione dei Costruttori che ha voluto mettere in piedi anche un interessante momento di dibattito e riflessione per parlare dell'Aquila e della sua ricostruzione. Sono stati premiati anche i migliori elaborati degli studenti che hanno partecipato ad un progetto molto innovativo e interessante, studenti in cantiere. Il gruppo giovani dell'Aquila si conferma nel panorama nazionale uno dei gruppi giovani più numerosi, uno dei gruppi più attivi, sia dal punto di vista culturale che anche dal punto di vista di proposizione. Questo non è derivato solamente dal sisma, ma io credo che le aziende del territorio dell'Aquila sono aziende che vivono un passaggio anche generazionale, in un'accezione virtuosamente, io definirei artigianale, proiettandosi in un processo industriale. In questa componente i giovani all'interno dell'azienda sono sicuramente dei paradigmi fondamentali e la dimostrazione della partecipazione così assidua a questo convegno non è la dimostrazione. Vero è che tutto questo, questa bellissima giornata, si inquadra in un momento drammatico, definiamolo così, in un momento di oggettiva difficoltà perché senza usare troppi giri di parole in questo momento la ricostruzione del cratere è ferma, mancando il titolare degli uffici speciali inevitabilmente la ricostruzione segna il passo.